Nel nostro territorio sono presenti due specie di zanzare, principalmente la zanzara comune e la zanzara tigre. Il comune di Chioggia ha attivato diverse misure per contrastare la loro presenza nel territorio. Il servizio ambiente svolge regolarmente attività di disinfestazione nelle aree pubbliche, avvalendosi di una ditta specializzata. Durante il periodo di riproduzione delle zanzare, primavera e estate, vengono utilizzati prodotti larvicidi sicuri per l'uomo, gli animali e gli insetti utili che sono autorizzati dal Ministero della Salute. Gli interventi per abbattere la densità di zanzare adulti, noti come adulticidi, vengono eseguiti sull'invia straordinaria per evitare danni agli insetti impollinatori utili come le api. Ciò avviene in conformità con la normativa dell'Unione Europea e della Regione Veneto. La lotta preventiva rimane il principale strumento per il controllo delle zanzare. È fondamentale che i cittadini collaborino gestendo correttamente le aree domestiche per impedire lo sviluppo larvale. Il Comune di Chioggia ha reso disponibili gratuitamente confezioni di larvicidi per la disinfestazione da utilizzare nelle caditoie e nei tombini in area privata. Le confezioni possono essere richieste gratuitamente presso lo stand dedicato al mercato del giovedì nelle date specificate o eccezionalmente il mercoledì presso l'Ufficio Ambiente in Cale San Cristoforo previa comunicazione via mail a ecologia-chioggia.org. È importante conoscere e prevenire la diffusione delle zanzare poiché possono trasmettere malattie come la febbre western 9, il dengue e le altre. Nonostante si siano ben adattate all'ambiente urbano è possibile limitarne la diffusione attraverso adeguate misure preventive. A seguire nel testo alcune azioni di prevenzione che i cittadini possono adottare per contrastare la presenza delle zanzare. Vi presento in questo caso Gonzaga Food che è un laboratorio artigianale di Mantova tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria quindi andiamo dai baci di dama piuttosto che i nostri meravigliosi tartuffi al rum. I tartuffi al rum sono aromatizzati al rum quindi la parte alcolica non c'è quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini, sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisciuti.